Le parole sono finestre oppure muri. Mi sento così condannata dalle tue parole. Mi sento giudicata e allontanata. Prima ancora di aver capito bene, era questo che intendevi dire? Prima che io mi alzi in mia difesa, prima che parli con dolore o paura, prima che costruisca un muro di parole, dimmi, ho davvero compreso bene? Le parole sono finestre oppure muri, ci imprigionano o ci danno la libertà. Quando parlo e quando ascolto, posta la luce dell'amore splendere attraverso me. Ci sono cose che ho bisogno di dire, cose che per me significano tanto. Se le mie parole non servono a chiarirle, mi aiuterai a liberarmi. Se sembra che io ti abbia sminuito, se ti è parso che non mi importasse, prova ad ascoltare, oltre le mie parole, i sentimenti che condividiamo. Ruth Weber Meyer. Da Le parole sono finestre oppure muri di Marshall Rosenberg.